Questi che ti sto per elencare sono i migliori business che puoi applicare. Molti li abbandonano perché non sanno perseverare, non sanno avere costanza. Ma se farai come ti sto per dire nel video e guarda il video fino alla fine, credimi, otterrai dei grandi risultati. Si verranno sacrifici, dovrai darti da fare, nulla ti arriva così a gratis, ma sappi che questi sono i migliori business online da fare nel 2024. Prima di tutto iscriviti al canale, attiva la campanella per le notifiche, e metti un bel like al video, un bel commentino, scrivimelo, grazie, così mi supporti. E andiamo subito al fruco dell'argomento. Quali sono questi business online da fare? Che molti purtroppo mollano perché non perseverano, non hanno pazienza, dopo due mesi mollano, dopo tre mesi. Devi aprire un canale YouTube subito, ma non così. Ti apri un canale e poi apri il secondo canale che è quello del brand. Dopodiché, cosa succede? Se vuoi aprire un canale YouTube fatto bene, io ti consiglio, lo trovi in descrizione, nei commenti. Comunque ti lascio anche, ti faccio vedere anche qua la nostra Academy di Corsi. Ci sono i corsi per YouTube e quant'altro, per guadagnare online e per iniziare un business online. Quindi se ti interessa, fatela vedere perché... Fate vedere il sito, adesso non ti dico niente perché qua stiamo facendo formazione gratuita sul mio canale YouTube. Quindi ti crei il canale YouTube, se non sai come fare, ti acquisti il corso sulla nostra Academy. Se vuoi aprirlo in maniera fatta bene, ok? Che ti renda. E soprattutto ti apri un canale YouTube e cosa fai? Spingerai per il tuo business. Se ci metti la faccia sarà molto più facile fidelizzare la tua community. Altrimenti, come ti spieghiamo nel corso, ma anche in altri tutorial gratuiti su questo canale, puoi creare video con intelligenza artificiale senza metterci la faccia. Nemmeno la voce, se vuoi. Fa tutto l'intelligenza artificiale. E parlerai della tua nicchia di business. Ma farai un video inerente a quella cosa lì. Magari ti apri più canali se hai più business, ok? L'importante è mantenere la nicchia. Uno, essere costanti nella pubblicazione e soprattutto fare contenuti di qualità. E contenuti almeno lunghi 8 minuti. Minimo. Perché questo? Perché poi nel momento in cui raggiungerai i requisiti per la monetizzazione di YouTube, verranno trasmesse più pubblicità sopra gli 8 minuti, anzi consigliabili anche 10 minuti, perché avrai un video all'inizio, un video in mezzo, un video alla fine, magari due video in mezzo, a seconda della lunghezza del tuo video. Quindi sicuramente più lunghi sono i video, meglio è non esagerare però con la lunghezza. Perché poi diventano stancanti questi video. Perché a te il video serve per convertire in soldi, deve portarti delle entrate. Quindi, a il canale YouTube, che cosa fai? Ci andrai ad applicare, e ovviamente non è che lo fai in 5 mesi, può volerci un anno e mezzo, due anni, dipende. Ma tu inizi, persevera, continua a pubblicare. Vuoi pubblicare un video a settimana o due? Fallo. Ogni settimana pubblichi un video. Ton, ton, ton. Non hai visualizzazioni, non hai iscritti? Fregatene, vai avanti. Pam, pam, pam. E continua a pubblicare. Vai dritto per la tua strada. Quando vedi che un video performa meglio, cerca di capire perché quel video ha performato meglio e cerca di quindi seguire sempre la strada dei video che ti rendono di più e soprattutto a quello. Ti consiglio di abbinarci all'inizio per cominciare a fare i primi soldini un po' di affiliate marketing. Puoi vendere prodotti di altri. Noi forniamo il servizio di affiliate marketing sul nostro sito, scorrendo. Te lo mostro. Puoi tranquillamente vendere i nostri prodotti, i nostri videocorsi, per esempio, e guadagnare il 10% sulle vendite. Basta condividere il link su WhatsApp, su Facebook, su Insta, dove vuoi tu. Poi se vuoi fare le cose più evolute ti crei un e-commerce e usi il link da affiliato per dove rimandi la gente che facendo clic su acquista viene rimandata al nostro sito per l'acquisto. Comunque la vendita viene rimandata, risulta che l'hai fatta tramite il tuo link e tu ricevi il 10%. Tramite la piattaforma Gumroad, quindi è tutto gestito dalla piattaforma, se ne occupano loro, quindi sono loro che rilasciano i pagamenti con cadenza mensile sulle provvigioni. E questo è il primo modo per iniziare a guadagnare due soldini, mentre intanto crescerai col tuo canale YouTube. Quindi sicuramente ti consiglio di utilizzare la nicchia del business, che è quella che ho utilizzato anche io, e imparare a fare siti web. Inizia a farti un sito web, un blog, scrivi articoli sulla tua nicchia di settore, metti link ai prodotti in affiliazione, metti le anteprime e i link per vedere i tuoi video di YouTube dentro gli articoli del blog. Tutte queste cose sono collegate. Ok? E soprattutto comincia anche a scrivere delle pubblicazioni, che venderai dove? Su Amazon, su Amazon KDP, quindi fai un po' di self-publishing, e vendi libri inerenti alla tua nicchia di settore. Vuoi fare un libro sulla formazione online? Vuoi fare un libro su come crescere su YouTube? Vuoi fare un libro sul marketing di affiliazione? Puoi farlo, se sei bravo e hai già delle basi, puoi scriverlo te, altrimenti ti puoi far aiutare dall'intelligenza artificiale. Noi nell'Academy spieghiamo ovviamente come fare tutte queste cose, abbiamo diversi corsi, il corso per Amazon, dove ti inseriamo anche a fare le campanee pubblicitarie, su Amazon per spingerle a vendita dei tuoi libri, ti inseriamo a aprire il canale YouTube, a fare il sito web, un blog, un e-commerce anche. Tutti questi corsi assieme li paghi solo 299 euro, perché tutti assieme costano il 50%, in meno invece di 597 euro, perché singolarmente ogni corso costa 199 euro. Questo giusto perché tu sappia di che cosa stiamo parlando. Se ti interessa, sono corsi per chi parte da zero e vuole iniziare a crearsi un qualcosa online, perché sono le cose che ho fatto io negli anni e ho voluto insegnarle anche a voi e mi ha permesso di ottenere che cosa? Delle rendite, iniziarmi ad aprirmi la partita IVA, perché ovviamente quando cominci ad avere delle entrate devi dichiararle, non puoi fare e-commerce così, ok? Comunque in descrizione nei commenti trovi il link al servizio di Fiscozen per avere la prima consulenza gratuita per informazioni sull'apertura della partita IVA e uno sconto di 50 euro sul primo canone annuale di abbonamento. Quindi vattela vedere, perché no? La consulenza è tanta gratuita, te ne parli con uno dei loro esperti a gratis e ti spiega un attimino tutto quanto. In più se sei un lavoratore dipendente ancora meglio perché non devi versare l'INPS, quindi è molto poco. Comunque, parlane con loro. Non sono qua a farti consulenza fiscale in questo momento. Anche se ho parlato un po' di partita IVA e vai a vedere sul mio canale troverei un sacco di articoli a riguardo. Quindi, vendere libri su Amazon, aprire un blog, sito web e e-commerce per far spingere tutti questi prodotti e anche prodotti in affiliazione e soprattutto una volta che hai imparato a fare un sito web, noi te lo insegniamo con i nostri corsi, ma se sei già capace, ma se no, imparando con i nostri corsi da zero impari a fare un sito web beh, cosa succede? Che poi lo puoi rivendere quel servizio. Puoi fare siti web, blog e e-commerce ad altri. Parliamo di un sito web, blog e e-commerce base, non stiamo parlando di fantascienza, non ti insegno a programmare, ok? Qua non siamo a fare queste cose qui. Lo dico chiaro e tondo, comunque ci sono scritte tutte le lezioni che sono incluse nei corsi, ma tutto questo qua ti permette di creare un giro dove avrai poi i guadagni da YouTube una volta che il canale è monetizzato, la vendita dei libri che è la tua community, perché man mano che crescono i follower su YouTube e sui vari social Instagram, Facebook, TikTok compreranno i tuoi prodotti. Chi ti segue è interessato a seguirti, prima o poi qualcosa comprerà da te che sia un libricino da 3 euro, che sia un libro da 10 euro, che sia un romanzo, hai deciso di scrivere un romanzo, vuoi vendere un romanzo? Scriverai un romanzo. Lo vendi solo in formato cartaceo, lo vuoi vendere a 25 euro, 30 euro? Vendilo come vuoi. Ti insegniamo anche a fare le campagne pubblicitarie, quindi spingerai quella pubblicazione in modo che gente che non ti conosce possa vedere il tuo libro, ma poi ne parlerai su YouTube. La gente lo vedrà, andrà a curiosare, qualcuno lo comprerà, perché magari avrai qualche follower affezionato, qualcuno comprerà, eventualmente farai tu dei videocorsi da vendere, oppure venderai, che ne so, i nostri videocorsi per dirti con l'affiliate marketing, condividendo i link, nessun problema, ma intanto comincerai a guadagnare. Tutto questo genera, poi magari dici che adesso mi stai seguendo e tu hai un'attività artigianale, vendi già dei tuoi prodotti, vuoi venderli online, lì impari a vendere i tuoi prodotti online, puoi gestire la spedizione, puoi gestire i corrieri, puoi fare, scegliere i metodi di pagamento, quindi carta di credito, Paypal, paga in tre rate con Paypal, puoi aggiungere Klarna, tutti questi metodi di pagamento, è molto semplice, non è così difficile e ti eviti di pagarti una web agency, ti gestisci tutto te, è molto semplice, tutto a norma di legge, vuole dire, più di così. E quindi tutto questo ti aiuta a generare che cosa? Delle entrate, ma delle entrate che poi piano piano guadagni un mese e guadagni 10 euro, poi ne guadagni 20, un mese non guadagni niente, poi ne guadagni 50, è una cosa che poi sale, scende, ma cresce. Ma ci dovrei dedicare tempo, fatica, denaro no, perché a parte che se vuoi formarti paghi 299 euro, sei a posto, poi abbiamo un pack dove ti diamo anche libri già pronti, perché noi facciamo anche servizi di ghostwriting, ti insegniamo a scrivere libri con l'intelligenza artificiale, quindi puoi vendere poi il tuo servizio di ghostwriting se vuoi, scrivere libri per gli altri, vuoi buttarti sul business dei libri, nessun problema, ti possiamo scrivere noi con l'ausilio dell'intelligenza artificiale libri da vendere su Amazon completi di copertina, nei nostri corsi insegniamo anche a creare le copertine e a pubblicarle su Amazon, è tutto legato, tutto legato, ti insegniamo a fare video senza che tu debba neanche pensare al copione del video, ci pensa tutto all'intelligenza artificiale, poi c'è la playlist corsi completi gratis, vatela a vedere dove ti insegniamo tutto, anche a creare un influencer ti insegniamo, il business delle finte influencer che girano sulla rete, ne avrete sentito parlare, ci sono dei video qua sul canale, vateli a vedere con migliaia di visualizzazioni, dove insegniamo a creare l'influencer e a creare le storie da pubblicare su Instagram e su Facebook e creare i post, quindi creiamo l'influencer con quel volto e poi utilizzeremo il volto dell'influencer per creare delle scene in vari post, non so, la spiaggia, gioca a beach volley, va in moto, si fa il giro, va in centro città, passeggio, si fa l'aperitivo, tutto quello che vuoi, ti insegniamo a farlo, questo tra l'altro lo insegniamo gratuitamente con il tutorial che trovi, utilizzando il tool Focus, vatela a vedere perché è una cosa pazzesca, quindi tutte queste cose vi aiuta veramente a generare soldi online, ti aiuta a crearti una vera professione, puoi diventare un vero imprenditore, apriti una dita individuale, dove farai e-commerce, dove farai gestione di campagne pubblicitarie online perché per giustificare le entrate di YouTube, il servizio, diciamo, il codice a te, che è quello che ti permette appunto di fare campagne pubblicitarie, perché tu alle fine con YouTube fai campagne pubblicitarie perché vengono trasmesse campagne pubblicitarie di altri sui tuoi video, quindi fai promozione online, quindi tutto questo assieme alla vendita di libri su Amazon per generare reddito col tempo e vedrai che può solo crescere, ma prima che vedi risultati, ce ne vuole, ma l'importante è cominciare. Niente ragazzi, vi ringrazio di avermi seguito, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale che è una fonte inestimabile di informazioni sul business online, veramente grazie di cuore per tutto il supporto che mi state dando, stiamo crescendo in una maniera esponenziale, a breve faremo, manca poco, un video speciale dove festeggeremo i 3.000 iscritti, quindi io vi ringrazio veramente di cuore. Iscrivetevi al canale, andatevi a vedere il sito dell'Academy massimopellegrino.net e noi ci vediamo presto alla prossima puntata. Ciao!